Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Autodata alle fiamme durante la notte indaga la polizia Tempi duri per i furbetti della differenziata 80 le persone multate Furti nei cimiteri Appello per ritrovare la stella marina di un marinaio Scuolabus, terza giornata Ridotti tempi d'attesa per il rientro a casa degli studenti Ladri scatenati fanno razzia di monoleve nelle imbarcazioni ormeggiate nel porto canale Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Ben ritrovati La polizia indaga a Sant'Orso su un misterioso incendio che la notte scorsa ha distrutto completamente un'auto parcheggiata in via Soncino Vediamo Sembrerebbe di origini dolose l'incendio che ha completamente distrutto questa notte una Mercedes classe B di un quarantenne campano ma residente a Fano proprietario di una ditta operante nel settore della canteristica navale Sono da poco passate le due di notte quando arriva la chiamata alla centrale dei Vigili del Fuoco per un'auto in fiamme in via Soncino a Fano nel quartiere di Sant'Orso I Vigili del Fuoco hanno impegnato più di un'ora per domare le fiamme e bonificare l'aria interessata dal rogo dell'auto che ha anche coinvolto lievemente altre due vetture parcheggiate nei pressi della Mercedes Nessun'altra conseguenza per le altre auto in sosta spostate prontamente dai loro proprietari Sul posto è intervenuta per far luce sull'accaduto anche una volante del commissariato di Fano che sotto la guida del dirigente Stefano Seretti sta effettuando le indagini per chiarire le dinamiche di questo episodio anche scandagliando il vissuto del proprietario che stando a quanto emerso in queste ore di indagini non avrebbe ricevuto fino ad oggi alcun tipo di minaccia o di avvertimento La raccolta differenziata non piace a tutti ma anche per chi si ostina a fare di testa sua questa volta va dura Pensate, da quando sono entrate in funzione le telecamere di sorveglianza nelle isole ecologiche sono state scoperte 80 persone 80 furbetti, vediamo Troppe volte in questi anni siamo stati testimoni impotenti di atti di pura inciviltà e senso civico totalmente assente da parte di alcune persone che in barba alle più elementari regole del buonsenso e della decenza hanno trasformato le isole ecologiche nome che già di per sé dovrebbe ispirare a comportamenti ben più etici in vere discariche a cielo aperto lasciando praticamente di tutto dai mobili usati ai materassi, ai giocattoli vecchi ma anche materiali speciali come Ethernet o materiale di scarto da ristrutturazioni edili questi soggetti dalla scarsa sensibilità ecologica sono stati ribattezzati i furbetti del cassonetto ma ora per loro i tempi si fanno duri dato che da alcuni mesi il comune di Fano con l'operazione videocamere ha messo un serio freno a questo fenomeno i dati diffusi questa mattina dai protagonisti di questa operazione ASET, comune e polizia urbana sono estremamente confortanti confrontando questo periodo con lo stesso dell'anno scorso i conferimenti sbagliati diciamo così sono decisamente crollati un importante risultato è stata l'attivazione quest'estate della videosorveglianza nelle isole ecologiche della nostra città e i risultati che abbiamo sono positivi quelli che oggi possiamo presentare sono le telecamere che stanno funzionando ci sono multe, ci sono sanzioni per cui finalmente chi non rispetta le regole chi sporca, chi non fa la differenziata in modo corretto viene sanzionato e anche diciamo così le spese che l'ente deve affrontare insieme alla società per gli interventi di pulizia straordinaria in qualche modo vengono ripagati da chi ha la responsabilità di quelle azioni sono oltre 80 le infrazioni individuate attraverso questo sistema di video, foto alcune delle quali anche con risvolti penali compiute da persone che sono state colte sul fatto e immortalate proprio mentre compievano l'insano gesto sì, ci sono dei soggetti preposti al controllo per cui il controllo avviene in due modi avviene in via, come sempre è stato fatto attraverso il controllo da parte degli ispettori ambientali del personale nostro ed avviene anche con il supporto del sistema informatico delle telecamere ambientali i vari filmati vengono verificati le varie situazioni degne di attenzione vengono valutate e ovviamente poi si procede anche le verbalizzazioni così come poi la norma prevede da tenere presente che abbiamo rilevato anche delle situazioni che hanno un rilievo penale per le quali ovviamente abbiamo delle indagini in corso e stiamo procedendo il dato espresso va inteso anche in senso non solo punitivo verso chi commette una infrazione ma anche di rispetto dell'intera collettività dato che una raccolta differenziata ben fatta ha ripercussioni economiche positive in termini di riduzione dell'ecotassa su tutta la cittadinanza metodiche chiaramente supportate da una tecnologia valida e innovativa che hanno visto nella sinergia tra comune quindi ente comunale della città e azienda sul territorio per i servizi anche di igiene ambientale una collaborazione fattiva e che ha avuto ottimi risultati devo dire che partiamo da una base ottima perché comunque la città di Fano ha dei risultati di raccolta differenziata importante e un livello di educazione alla raccolta sicuramente più elevata rispetto ad altri territori e adesso sentite la storia di questa signora che ha chiesto alla nostra redazione di lanciare un appello quello di ritrovare una stella marina una stella marina certamente di poco valore economico ma di un grande valore affettivo ci sono luoghi in cui non penseresti mai che certe cose potessero accadere posti nei quali l'umana meschinità non dovrebbe mai entrare eppure questo accade anche più soventemente di quanto noi possiamo pensare un cimitero è uno di questi posti in cui chi ha cari e parenti a cui portare fiori o sulla cui tomba soffermarsi in raccoglimento non ha difese verso gesti che col dolore e col ricordo non hanno nulla a che spartire ma nei cimiteri e anche in quello centrale di Fano si ruba ci sono persone che rubano e che sono capaci di infliggere dolore al dolore come è accaduto a Marina che qualche giorno fa mentre faceva visita alla tomba del padre si è accorta della mancanza di un oggetto un oggetto di poco valore materiale ma di grande significato per lei una stella marina per simboleggiare il legame con il mare essendo stato suo padre un gran marinaio ma non vedere la stella marina lì ha aggiunto sale sulla ferita già aperta di un dolore mai spento sono andata alla tomba di mio babbo e mi sono accorta che c'erano i vasi ribaltati e avevano rubato la stella marina che gli avevo regalato di ceramica queste cose sono fatte molto male non devono capitare anche perché non è il fatto del valore di per sé ma proprio questione di principio queste cose non devono avvenire secondo me i morti vanno lasciati in pace e con loro anche le cose che uno regala affettuose io faccio questo appello pur che qualcuno mi ascolti chi ha preso questa cosa di riportarla al posto dove l'hanno presa qualcosa che non dovrebbe affatto accadere ma che invece è più frequente e costante di quanto si pensi e chi lo subisce unisce rabbia a rassegnazione due vasi due vasi ma li avevo appena cooperati poi l'ha messo l'ha preso da me l'ha messo in un'altra tomba io l'ho riconosciuto e l'ho ripreso porta i fiori e poi dopo non li ritrovo più eh ma uno, due come a lei una rosa da quanto va questa situazione? mio figlio è sei mesi che è morto prima non lo so e quindi insomma lei sei mesi che ha questi episodi? ogni tanto non diciamo sempre ma ogni tanto manca una brutta pagina una brutta pagina della nostra società una pagina che non dovrebbe mai essere scritta terza giornata terza giornata di trasporto scolastico oggi siamo andati a vedere com'è la situazione per la terza puntata della telenovela degli scuolabus vi presentiamo un sensibile miglioramento sul fronte torna? non torna? quando torna? fermo restando le gravissime mancanze della ditta Tundo per l'avvio di questo servizio cosa che gli è costata tra l'altro una richiesta d'anni da parte del comune è forse questo l'elemento confortante di questa terza giornata campale del trasporto scolastico sarcasmo a parte anche oggi con le nostre telecamere abbiamo seguito i pulmini con a bordo i loro piccoli occupanti nel tragitto di ritorno vera spina nel fianco di questa vicenda sì perché ormai più che la raccolta dei piccoli studenti che possiamo dire ormai stabilizzata ora quello che rimane da mettere a punto è la tabella di marcia e la riconsegna dei bambini in tempi accettabili e che non costringa i genitori a fare il toto ritorno come potete vedere partito dalla scuola di Carrara il pulmino una volta caricati gli studenti con l'aiuto del tutor messo dal comune all'interno del pulmino si avvia alla riconsegna in tempi accettabili allora siamo tornati qui vicino a Cucurano Babbo in attesa questo giro come andrà speriamo bene sicuramente meglio di due giorni fa che l'organizzazione ha lasciato molto desiderare ieri a che ora sono arrivati ieri era l'una e quaranta l'una e mezza a che ora sono qui solitamente dovrebbero essere qui solitamente a luna e un quarto arrivano solitamente per adesso sono le luna e venti ancora accettabile ancora accettabile i servizi educativi in una nota diffusa nel pomeriggio assicurano che continueranno a monitorare l'operato della ditta Tundo e che permarrà la presenza degli assistenti agli autisti sui pulmini per tutto il tempo necessario a che la situazione si normalizzi inoltre l'assessore Mascarin ci ha assicurato nella mattinata che altri mezzi andranno a rinforzare quelli già esistenti su tutte le linee degli scuolabus ladri in azione la notte scorsa al porto canale di Fano dove sono ormeggiate numerose imbarcazioni in nove di queste i ladri hanno rubato i comandi in monoleva che permettono di governare il natante e che hanno un costo di circa 800 euro ciascuno i furti sono stati scoperti solo nel pomeriggio da uno dei proprietari delle barche i responsabili della Lega Navale di Fano sono convinti che si tratti di un furto su commissione o comunque mirato dato che i ladri non hanno portato via nient'altro tra i monoleva trafugati anche i modelli più vecchi elemento questo che fa pensare ad una richiesta dunque precisa da parte di qualcuno si chiama Maria Castaldo ha 30 anni di origine campane ma abita ormai da tanto tempo a Saltara ha scritto un libro un libro interessante che sta suscitando molto interesse sulla violenza sulle donne un libro che parla di un tema insomma sempre attuale insomma un'ottica particolare dal punto di vista delle donne che è quella ahimè della violenza purtroppo sì il libro racconta appunto di due ragazze che entrambe subiscono violenza una a 23 anni stuprata e l'altra a 17 condizionata da quello che è l'ambiente esterno quindi dal giudizio delle persone e anche lei violentata anche se poi il suo è più un convincersi del fatto che comunque siccome il tutto si svolge in una gita scolastica e si sente comunque fuori da quello che è lo schema della normalità si sente diversa rispetto alle sue compagne quindi si crea una situazione dove è compromettente insomma come ti è nata l'idea di questo libro? allora io ho conosciuto queste ragazze all'interno di un'associazione dove ci sono tante storie come le loro ma anche diverse io ho avuto modo di confrontarmi con loro sotto vari aspetti abbiamo installato comunque un ottimo legame siamo diventate amiche e si sono confidate con me così come in certi momenti mi sono confidata io con loro quindi è stato un percorso abbastanza lungo e quindi mi hanno raccontato la loro storia siccome mi ha colpito molto ho deciso di raccontarla perché le ritengo due storie valide e soprattutto molto attuali allora l'uscita del libro insomma quando ci sarai quando lo presenterai ufficialmente? ufficialmente uscirà il 26 di settembre faremo un anteprima ufficiale sempre a Roma in una delle più importanti librerie della Feltrinelli proprio a Roma il 22 di settembre qui invece nel tuo territorio nel tuo ambito? qui il 9 di ottobre alla chiesa del Confalone a Saltara verso le 6 però quella poi è da dare conferma comunque in ogni caso su sito e sui social facebook comunicheremo tutte le date e gli aggiornamenti allora prendiamo adesso invece della festa dei fiori Fano fiorisce sabato c'è un appuntamento musicale molto bello da non perdere quest'anno la festa dei fiori sta dando una nuova connotazione a tutta la città non è solo uno stravolgimento d'immagine è qualcosa di più profondamente nuovo siamo all'anno zero praticamente di questo evento fanese scelerati a parte tutto il centro nelle sue direttrici principali ha subito un maquillage floreale che si avverte e si sente anche noi cerchiamo comunque di coinvolgere tutto il centro storico appunto in questo evento è una festa molto bella che arricchisce e chiude diciamo il discorso della festa dei fiori quindi proprio per rendere questa città viva e animata cerchiamo di coinvolgere tutti i commercianti tutti i ristoranti i bar per cercare proprio di ravvivare il centro storico ci sono delle zone che vanno molto al di là della piazza che sono meravigliose bellissime vestiamole semplicemente ancora di più perché noi comunque la base ce l'abbiamo fano è bellissima bisogna soltanto vestirla un po' di più per renderla ancora più accattivante a chi gira ma per essere un vero contenitore culturale e innovativo non poteva mancare la parte di spettacolo e a questo ci pensano i fratelli Carboni che in tema floreale possiamo dire che hanno una vera e propria vocazione viscerale siamo veramente contenti ringraziamo Proloquo e Comune per averci dato questa opportunità di organizzare questa manifestazione in piazza 20 settembre per sabato 24 quindi vi aspettiamo numerosi e la parola è carta a carbone appunto la serata si svolgerà in questo modo dalle 20 inizierà Emidio DJ di G Dad e poi alle 21.30 circa i carta a carbone si esibiranno con il loro show classico di musica disco rock 70 quindi cercheremo di far ballare tutti anzi ballerete tutti e che dire poi la serata si chiuderà sempre con un DJ set fino insomma a tarda notte in mezzo a una settimana di eventi vogliamo concludere con una festa in piazza una festa stile figlie dei fiori anni 70 anni 60 70 quindi un tuffo nel passato una fase conclusiva di questa estate che sta finendo siamo quasi all'inizio dell'autunno ok il telegiornale è finito Occhio la notizia torna domani mentre domani sera alle 20.30 mentre domani mattina come sempre vi aspetto per la rassegna stampa Occhio ai giornali 7.30 puntuali canale 17 di Fano TV arrivederci a Grazie a tutti.